Oh, le bambine stanno mangiando, ma lo faccio anch'io, un panino al salame, altro che ciocco crepe di marzolla, belli zuccheri raffinati, questo diciamo mangiare a greste, per chi adesso non fa nessun tipo di preparazione, lo sfizio, vedi, vuoi lo sfizio, poi tra una mezz'oretta ti va a allenare e basta, eccolo qua, lo sgarro. Da non sottovalutare il panino al salame, perché dà una forza. Grazie a tutti.